Ma è stancato! Ma è stancato! Ma è stancato! Non ne posso più! Non ne posso più! Non ne posso più! Pioli! Non ne posso più! Ma è stancato! Hai lutto il cazzo! Hai lutto! Hai lutto il cazzo! Hai buttato nel cesso una partita con una scelta sciagurata! Non meritavamo di perdere questa partita perché in 10 contro 11 l'avevamo portata sul 2 a 2 con cuore, con carattere! Quando vinciamo le partite, sappiatelo, non è per merito di pioni è perché abbiamo la squadra! Perché poi, quando ci mette il zampino e con queste partite qua, è bastato giocare due partite a settimana e è andato a perdere perché non è capace di gestire la rosa non è capace! Cioè Simone Inzaghi alla Champions, martedì con l'Atletico Madrid due cambi ha fatto! Anzi, uno! Lui che ha vinto 3 a 0, deve... Ha vinto 3 a 0 con Ren! Il turno per farlo con Ren lo fa oggi! Cinque ne ha cambiati! Cinque ne ha cambiati! E uno non deve incazzare, te ne devi andare a fine stagione! Prendi le valigie! Cardinale, lo mandi a fanculo! Lo mandi! Mi son rotto il cazzo che sul più bello ogni volta butta nel cesso delle partite! Lui, perché poi nel secondo tempo la squadra che è entrata ha dimostrato di esserci di avere le energie per poter fare la partita giocandola dall'inizio abbiamo fatto un partitone perché? Perché hai dovuto fare tutto quel turno tu mi devi spiegare il perché! Il perché non era necessario arriviamo da un mese e mezzo che giochiamo una partita a settimana perché è tutto sto turno over? Che sai che giovedì puoi giocare con tutte le riserve che cazzo hai vinto a fare allora? 3 a 0 contro una squadra così mi viene il mal di stomaco mi viene il mal di stomaco mi incazzo troppo tanto mi incazzo a vedere queste cose sei un cazzo di allenatore mediocre mediocre tu mediocre chi ti sostiene ancora? Tutti quelli youtuber che ti sostengono ancora che sei un mediocre l'hai buttata nel cesso questi ragazzi non si meritano un allenatore come te non se lo meritano poi parliamo degli errori individuali ok ciao ciao hai fatto cagare hai la giustificante perché arrivi da 4 mesi infatti non so perché sei per il titolare questa partita che va recuperato piano piano il giocatore no titolare partita di merda un errore sul rigore che davvero avevi fatto un secondo prima che cazzo fai un errore così sul rigore e poi si è fatto uccellare vabbè dopo dopo che abbiamo preso il tour 2 è andato a valanga ma lasciamo perdere guardate raga Jovic ti fai buttare fuori come un coglione un coglione già siamo 2 a 0 ti fai buttare fuori come un coglione e lì non è colpa di Pioli è come hai gestito la partita fai schifo al cazzo tu sei la rovina di questa squadra ripeto quando vinciamo è perché è una squadra forte non puoi avete visto quando ha messo la formazione giusta come giocano quando ci metti lo zampino sei scandaloso raga sempre forza mia sono incazzato avevi l'opportunità di scavalcare la Juve si mette un po' di pressione alla partita e la perdi la butti nel cesso non ne posso più davvero raga non ne posso più